...economici per una liquidità di cassa di poco più di 10.000 euro, più di 7.500 euro da ottobre 2009 a gennaio 2011 per spese di telefonia mobile, vengono giudicate eccessive. Poi Paolino torna sul suo rapporto con Benvenuto e sull'atteggiamento assunto finora in Consiglio e su quello che assumerà in futuro, riaccennando alle preoccupazioni circa il futuro dei lavoratori. Sebbene lui un presidente illegittimo, perché all'epoca si è insediato senza un documento programmatico protocollato all'ente, io mi ero posto nelle condizioni ancora oggi di dover votare responsabilmente tutti i provvedimenti che in Consiglio, nell'interesse del territorio, sono stati portati. Le cose che non mi piaceranno continuerò a denunciarle, le cose che invece vanno fatte nell'interesse soprattutto di una classe impiegatizia che si vede lì mortificata, questa è l'ultima fase di questa vicenda, un accorpamento che non viene fatto, e ritorno su questo argomento, si vede ancora più frustrata in quello che dovrebbe essere la dignità di ogni uomo che lo trova e lo può trovare la propria dignità nel lavoro. Il presidente è benvenuto, per il momento ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Lavori che ha dichiarato il vice sindaco Sarubbi si sono resi necessari per prevenire ulteriori movimenti franosi e per garantire sicurezza alla circolazione stradale della zona. Il sindaco del comune di Aieta, Gennaro Marsiglia, rende noto del progetto Giabes per Aieta. Informo i genitori degli alunni delle scuole del comune, scrive Marsiglia in una lettera, di una nuova iniziativa che esegue quelle intraprese sponsorizzate dall'amministrazione comunale in questi anni, quali il corso d'organetto, la scuola calcio e quella di ballo e che riguarda i più piccoli della nostra comunità. Si tratta di una serie di laboratori, prosegue la nota di Marsiglia, artistici, musica, pittura e quant'altro per bambini dai 3 ai 5 anni. Il progetto, approvato all'interno del distretto sociosanitario con capofila il comune di Praia Mare, è realizzato con l'ausilio di alcune cooperative sociali. Durerà 8 mesi. I laboratori artistici si svolgeranno ogni sabato dalle 9 alle 13 con operatori qualificati. Si parte il prossimo 2 aprile presso il centro iniziative sociali di Via Roma ad Aieta. Ora però andiamo a Belvedere dove si è tenuta la sede dell'Unione dei Comuni Soleo. Belvedere, San Gineto e Sant'Agata d'Esaro dicono sì al bilancio ambientale. Ma sentiamo i particolari da Martino Ciano. Passa all'unanimità l'adozione del bilancio ambientale nel corso della seduta dell'Unione dei Comuni Soleo, tenutasi nella sala consigliare di Belvedere. L'associazione che comprende gli enti di Belvedere, San Gineto e Sant'Agata d'Esaro ha dato quindi il suo parere positivo sulla prossima redazione di un documento di contabilità ambientale attraverso il quale risulteranno chiare le spese sostenute e quelle previste per tutela, gestione e soprattutto sostenibilità ambientale. Il fine è semplice, accedere ai fondi POR Calabria 2007-2013 per finanziare progetti utili al potenziamento di mezzi e servizi. La redazione del bilancio ambientale consente di monitorare lo stato dell'ambiente e di valutare concretamente le conseguenze ambientali, positive o negative, delle principali attività dei comuni e delle province. Con questa azione abbiamo voluto rilanciare l'attività della Soleo, ha detto il sindaco di Belvedere nonché presidente dell'Unione dei Comuni Soleo, Enrico Granata. Dobbiamo recuperare il tempo perduto, visto che per un certo periodo abbiamo accantonato il progetto. Pertanto, ha aggiunto Granata, l'adozione del bilancio ambientale dà spunto anche al nuovo corso di questa associazione di enti, i cui obiettivi sono riassumibili in due punti, sinergia ed efficienza. Per questo il nostro motto rimarrà sempre uniti, si cresce. Rinviate invece alla prossima seduta la discussione sulla contestata incompatibilità di Sant'Agata d'Esaro, che non potrebbe far parte dell'Unione in quanto già componente della comunità montana. Lo stesso vizio infatti era stato riscontrato anche per buoni fatti, che proprio per questo motivo non fa più parte dell'Unione dei Comuni Soleo. Continuiamo a parlare di ambiente. Il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, in forma a una nota dell'Ufficio Stampa della Giunta, in merito al dibattito nazionale e regionale sulla tematica della denuclearizzazione del territorio, ha dichiarato la Regione Calabria, già in fase di conferenza dei Presidenti delle Regioni, ha manifestato chiaramente il proprio no alla realizzazione di centrali nucleari nel territorio calabrese. Andiamo a Diamante. Concluderà le celebrazioni del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia a giovedì prossimo, con una serie di eventi che cominceranno fin dalle prime ore del mattino. Infatti alle 9 in Piazza Mancini avrà luogo la presentazione del murales realizzato nel 2005 dal maestro Pino Lefauci e restaurato di recente con aggiunte ispirate al tema dell'Unità d'Italia. Di seguito alle ore 10 il Cineteatro Vittoria ospiterà un incontro dibattito sull'Unità d'Italia che vedrà la partecipazione degli istituti scolastici cittadini, dell'amministrazione comunale e dei dirigenti scolastici. La giornata si chiude con la proiezione del film Noi credevamo di Mario Martone. L'evento comincerà alle ore 20 al Cineteatro Vittoria di Diamante e l'ingresso naturalmente è gratuito. Voltiamo pagina, parliamo ora di Beach Soccer. È arrivata la firma tra IBS e Comune di Diamante per disputare dall'8 al 10 luglio prossimo la tappa calabrese del Mundialito. Ai nostri microfoni il fondatore dell'Italia Beach Soccer, Maurizio Iorio. Il Mundialito Beach Soccer nella sua tappa calabrese si trasferisce di qualche chilometro più a sud. Dopo tre anni consecutivi a Praia Mare quest'anno si svolgerà a Diamante nella città del Peperoncino. Ne parliamo con l'organizzatore e con il responsabile dell'Italia Beach Soccer, Maurizio Iorio. Quest'anno allora sotto i murales. Eh sì, dopo un lungo cammino che prioritariamente vedeva Praia Mare, ho dovuto lasciare Praia perché i tempi si allungavano e io necessitavo assolutamente di prendere una decisione per poter completare il mio palinsesto sia quello televisivo e sia quello organizzativo. Per cui alla fine ho dovuto scegliere e ho scelto Diamante dove faremo questo nostro evento insieme all'amministrazione appunto del paese del Peperoncino, l'Italia Beach Soccer, l'8, il 9 e il 10 di luglio della prossima estate. Dopo tre anni qui sulla spiaggia di Praia Mare si era creata anche una macchina organizzativa ben rodata grazie al feeling, alla partnership con la fondazione Almerigo e Mario De Rosa. Ora però si cambia, si va a Diamante, che cosa cambia sotto il piano dell'organizzazione? Oltre al feeling organizzativo si era creato un rapporto che io dico familiare, amichevole, di affetto veramente non solo con la famiglia De Rosa ma proprio con il popolo praiese e questo è proprio quello che realmente sento e anche sinceramente con gli amici dell'amministrazione e questo sinceramente mi ha lasciato proprio un po' di amarezza però al di là di questo mi auguro con tutto il cuore e farò tutto il possibile perché la fondazione De Rosa sia per l'affetto che intercorre, l'affetto, la stima, l'amicizia che intercorre tra di noi ma soprattutto per la competenza della famiglia De Rosa e della fondazione De Rosa in questo settore che è assolutamente top level, di livello altissimo, farò di tutto perché lui mi accompagna anche nella tappa di Diamante perché per me sarebbe una grandissima soddisfazione e anche sinceramente sarebbe una forma di tranquillità perché avere accanto a me un'organizzazione come quella della fondazione De Rosa ti posso assicurare che per me è un modo di poter star tranquillo e di poter assicurare alla Calabria, regione che tra l'altro amo, un altro torneo di livello mondiale. Siamo in chiusura di questa edizione del telegiornale non prima di esserci dati qualche appuntamento previsto domani in Calabria. A Cosenza alle ore 9 presso il Teatro Morelli rappresentazione dei 40 racconti dedicata agli studenti a cura dell'Associazione Alma nell'ambito della rassegna Famiglie a Teatro. Poi a Paola alle ore 15.30 presso la sede del Sub, incontro promosso dal sindacato autonomo di base sulla gestione del personale soggetto al dimensionamento scolastico nell'area del Tirreno. Poi a Castrovillari alle ore 17.30 presso la sala convegni San Girolamo dibattito sulla salute e sanità nel territorio del Pollino. Infine di nuovo a Cosenza sempre alle 17.30 presso il caffè letterario, seminario sulla programmazione neurolinguistica tenuto dall'esperto Stefano Passalacqua, autore di pubblicazioni sull'argomento. Queste ed altre notizie naturalmente come sempre sul nostro sito www.rete3.tv. Mandate le vostre segnalazioni all'indirizzo redazione chiocciola rete3.tv. Grazie a Vittorio Scuotto per la regia, a Lino Russo per le camere. Per questa sera è tutto, continuate a restare sintonizzati su Rete3. Grazie, arrivederci.